A mille ce n'è, ve lo ricordate bambini? Così cominciava il famoso cantafiabe della nostra infanzia. E cosa c'è di più bello per un bambino se non addormentarsi al suono della voce di qualcuno che racconta, immergendosi in un mondo diverso e immedesimandosi in tanti personaggi? Anche noi, 15 anni fa, ci siamo fatti incantare dal magico mondo della musica. Fiabe, racconti, ritmi, in un crescendo di stupore e curiosità. Lasciatevi allora prendere per mano dalle note per entrare nel nostro mondo fatato, un mondo per sognare. E questa favola noi la dedichiamo al piccolo Fabien. Grazie. 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 Quante sensazioni, quante emozioni, quanti pensieri di quando eravamo piccoli. Un vecchio gelso le custodisce inanellate nei suoi rami, come se fossero la cosa più preziosa che ha, mentre il sole sorride. E queste emozioni si intrecciano con lo scorrere del tempo del coro. Di quando più piccini salivamo emozionatissimi su questo palco. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vi dobbiamo vivere poche diverse persone. incalzanti, ma anche intimi e carezzevoli. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.